E' considerata la corsa più grande del mondo, si è svolta infatti in 43 città italiane, 18 nel mondo e in 26 istituti penitenziari. E' diventata ormai l'iniziativa simbolo della WISP, si tratta di Vivi Città. E' una corsa che porta con sé tante tematiche ormai in maniera tradizionale, siamo alla 34esima edizione, quindi una storia ormai per questa corsa alle spalle. E' una di quelle manifestazioni che la rappresenta molto bene la WISP in maniera proprio significativa. Ci sono i temi che si accompagnano di tipo ambientale, penso al fatto che questa manifestazione utilizza tutti i materiali che poi sono riciclabili. E' una manifestazione ecosostenibile, nel senso che poi ha un impatto prossimo allo zero e noi lasciamo come abbiamo trovato i luoghi in cui facciamo la corsa. L'altro tema importante che accompagna da sempre questa corsa è quello solidaristico. Noi abbiamo un progetto nazionale della WISP per i campi profughi del Libano, la costruzione e la formazione di persone per fare sport ai bambini, ai ragazzi che hanno una vita non molto di qualità e non molto agevole in questi campi profughi. Noi diamo il nostro contributo raccogliendo in tutte le manifestazioni dei fondi per portare avanti questo progetto. Ad Arezzo sono stati circa 200 gli atleti che hanno preso parte alla corsa tra competitivi e non. A vincere la 34esima edizione di Vivi Città ad Arezzo è stato Zaccaria Taos. Grazie. Grazie. Grazie.